Allora, visto il grande successo della serie di incontri di Carmageddon dove ci facciamo saltare con le macchine, abbiamo deciso di portare la cosa nei cieli, vero Manu? Negli alti cieli, azzurri, si Ok, andiamo, vediamo 2 a 10 e vedremo un po' cosa riusciamo a combinare Combinare qua Perchè sono davanti a te, non usare la potenza degli aidi Sì, ma è a 180 all'ora Siamo bravissimi, lo più lontanissimo Ok, allora, facciamo una cosa Usiamo la stessa arma nello stesso momento Cioè, finché non è finita l'arma, a tutti e due, non si può cambiare l'arma No, no, partiamo con l'Hydra, che sono le cose più scarsi Partiamo di Hydra, tu sei dietro, basta, non è niente di buono Mi stai seguendo Aspetta, devo ancora vedere dove sei Ah, ecco, perfetto, allora ti posso già sparare Sei sopra o sotto di me? Sì Ah, sei di fronte Eccolo lì, il bastardo Sparo Eccolo lì Sono lentini E mi è anche andato un po' in stato Però, un po' bene, bastardo Perchè non bisogna avere fretta Bisogna prendersi il tempo Prima di fare le vira con una guilde Andare dietro un bersaglio E poi sparare No, bastardo, si era detto l'Hydra prima Sì? Eh sì? No, non mi pare Bruta merda L'Hydra? Eh sì Però, visto che tu sei una merda Ora ti becchi No, bastardo Non vale quelli degli digami Va bene che mi stai sempre di culo Però io ora Tenterò una evoluzione pro è forte Vai Uh, uno manca Uh, uno prende Manca Prenditelo Dove capo, bastardo Fumi, eh Stai fumando Sei prossimo allo schiampo Sei prossimo allo schiampo Sei prossimo allo schiampo Ti ho sganciato Sbagli Oh mio Ah, ah, ne hai tirato un missile? No Ah, questo è un missile No, non ti ho tirato Non ci si trova Tu non ne hai più Ti ho preso Ti ho preso Non so come ho fatto Non so come lo spiegare Stai un missile Non so come hai potuto Ma non va di meno adesso Con l'aereo mi sa Eh, non lo so Poe, oh, non ci sta Eh, già strano Che siamo sopravvissuti a un missile Sì Su di ciò Becco eh Che cozzo Bastardo Vabbè dai Ok Eccoci tornati con il secondo round Secondo round Stavolta cercherai di parigiare bastardo Bastardo Probabilmente fallirai Sto andando io eh Dio Dacci quanti di decollare insieme Fa un rumore eh Questi cazzo di aerei Oddio ti ho toccato lava Bastardo Non hai già dato a sparare Eh te lo meriteresti eh Mi hai Non l'ho fatto opposto Mi hai toccato l'ala Non l'ho fatto Su di ciò Sta bene Carro in su Aspetta che ora io mentre l'aereo vola da solo Spero che voli da solo Abbasso leggermente il volume Audio Effetti Così lo mettiamo Va bene Eh perché dà un po' fastidio Sì io l'ho già abbassato perché era troppo alto Sì sto po' Sei pronto a morire perché ti sono proprio inchiodo in coda eh Potrei risparmiarti Ma non c'è da fare mai Tanto ti targetto giusto per Ah ma che sei un infedele Ah mi preso per lo bastardo Eh sì è brutto Adesso è un altro Te che Ah ti devo ritargettare Vabbè tanto sei qua E te ne do un altro Manu Manu Sei nel mirino Anche in prima persona Va va in prima persona Beh fai una manovra evasiva no Eh la sto facendo È belle eh Ho capitato E' mancato bastardo No Sa che cosa provo a fare Oh no mi sto schientando No Sacacca merda Manu Non c'è Come cazzo Yeah Proviamo la prossima Va magari cambiaere Cambiamo aereo Ok ok cambiaere Ok terzo round Ieri sono cambiati Anzi Chia 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 il mio e vediamo se sto giro esco a tirarlo giù non è nulla si va su stardo subito salio schiantati di subito cazzo questa volta ho fatto un decollo fallimentare io ho fatto un decollo fallimentare meglio meglio vabbè ho targettato hai qualche sistema di bordo o un anti target un anti lion cazzo no ti ho preso sai che credo che dovremmo portarci un po' più in altezza si anche in velocità perché io sto andando veramente piano si stanno facendo troppe virate dannose dovremmo fare un tempo limite di salvezza durante il quale bastardo bastardo guardalo lì verminoso qualcuno adesso muore preso bastardo bravo bravo torno merda per me su di ciò quarto round quarto ramos quarto rama poi pronto quarto rama quarto rama quanto rama sei pronto partenti finora quanto stavo messi 1 1 no è che 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 muore no siamo un po' troppo vicini decolla decolla togliti vattene via vai via sei ancora in mezzo è bastardo ti stai fermando per farmi passare davanti assolutamente no e se è una merda nel modo che assumo mi sono installo ok carrello su dove il tegamone ti piacerebbe sapere ti piacerebbe tanto dove ma ma tegamone eccolo 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 non ho l'ho tutto tempo tempo sono un po' scarsi come è direi eh se io sto andando parecchio parecchio sotto velocità consentibile se l'ho di l'ho la ma l'ho l'ho preso no targettato prende subito un cazzo vuoi vedere che ora non ti prende non prende niente sono una cagata lascia fare lascia sparare nel momento giusto ma non è vero non devi sparare proprio perchè non prendo e beh adesso ho i suoi due missili tu no anche se lo prendi una volta non fa esplodere bastardo l'ho preso eh no non credo perchè non sono esploso quindi però aspetta adesso fumi eh fumo mi sa di si no no forse era il fumo della mitraglia si 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 questa terza o quarta battaglia che sia terza o quarta si sta facendo più u ehi bastardo è difficile qua è difficile si ci stiamo dando un po' di filo da torce mi va sempre mi installo perchè devi prenderti il tempo anche di acquisire velocità non è tutto sparo le virate bisogna farle molto lente cioè lente larghe invece dove si eh ah basta che ho preso eh no si un colpino è arrivato un colpezzo un fumo però tu fumi invece no io non fumo io ti vedo fumare no non sto fumando stai fumando no buon per te dai fatti sparare solo un colpino certo arrivo guarda eh questo l'hai preso bene però stai adesso fumo ma anche tu fumi eh forse sai che un po' deve essere normale no no puoi essere normale ma che cazzo non riesco a targetarti ora faccio la mia solita manovra evasiva alla maverick alla maverick ma se sganci le bombe è in volo rovesciato ti fai esplorare eh boh che ti arrivino addosso e dovrebbero fuori oh 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 di poco eh ah tu stai messo male ora ti missilo mi sa ti intento di missilare vai targhetta targhetta la merda oddio i miei missili sono fallimentari anche i miei erano comprati all'ikea però io fumo di brutto e ora sono fatti all'ikea i missili ah star no non è ti vedo sai quante punizioni hai dalla mitra di attrice? 700 io ne ho 600 io ne ho 600 io ne ho 600 stiamo prendendo allo sfinimento questa cosa si eh si ciao eh ciao ciao eh ciao 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 tanto ne muori ciao ciao tegame ok ok questo non installo merda ah una azione ok la situazione sta iniziando a diventare noiosa credo eh perchè ci stiamo volando intorno con due bulli quindi io prendo un po' di velocità avuto chi vincerà questo scontro chi vincerà questo scontro non importa niente per favore timagini se si crede con uno scopo troppo magari eccolo lì il tatameo bastardo mi è peccato li stai prendendo sto giro ma non credere stiamo fumando tutti e due minchia sono tu come sei sei rosso lull non vedo perché ho i valori dei fps mi sembra che sia verde da quel che vedo è il mio rosso oddio eccolo la lui era convinto bastardo muori tameo